Scopriamo assieme 5 cose che forse non sapevi su Cupra Formentor. Cupra nasce nel 2018, ma ha radici più profonde. Il suo nome deriva dalla fusione delle parole Cup e Racing, acronimo usato infatti da Seat già negli anni 90 per identificare i suoi modelli sportivi. Formentor è il primo modello nativo 100% Cupra e nel 2021 si è candidata tra le 6 finaliste di Car of the Year. Questo modello offre varie combinazioni di motorizzazioni, a partire da 150 CV con alimentazione diesel o benzina, passando poi per i 245 CV con la versione e-hybrid. Per arrivare fino a 390 CV con la versione qui presente Formentor VZ5. Formentor offre molte dotazioni di serie, tra cui cerchi di lega da 18 pollici, sedili sportivi, un sistema infotainment con display touch da 10 pollici, Cupra Virtual Cockpit da 10 pollici e Adaptive Cruise Control. La tua auto sempre connessa, grazie a Cupra Connect, che offre un'esperienza completa per collegarti alla tua nuova Cupra dal tuo smartphone, dove puoi controllare in tempo reale tutti i dati di guida. Sei costantemente aggiornato sulle condizioni del traffico, sei sempre dove hai parcheggiato la tua auto e puoi conoscere da remoto lo stato della vettura. cupra